Mi è arrivata una lavastoviglie così bella, ma così bella e così performante che sinceramente ne ho veramente poche in esposizione così Premetto subito che è una 15 coperti, quindi quasi il massimo della capienza delle lavastoviglie ed è nella nuova classe energetica, ovvero la classe B quindi consumi bassissimi inoltre ho un motore inverter, quindi un motore molto più performante che emette meno rumorosità ed infine anche il terzo cestello delle posate di quale marchio sto parlando? e la nuova lavastoviglie a libero posizionamento dell'outpoint Ariston questo qui è il modello, segnatevelo cestello inferiore molto capiente con alette adatte a piatti fondi e piatti piani e alette movibili adatte sia ai piatti e anche per posizionare al meglio pentole e padelle cestello superiore regolabile in altezza adatto ai piatti più alti da mettere nella parte inferiore e con le alette laterali adatte a posizionare anche i calici ed infine appunto il terzo cestello superiore delle posate rivestimento interno tutto in acciaio e quei due erogatori lì con su scritto 3D adatti a lavare al meglio le stoviglie e le ceste inferiore come programmi abbiamo l'eco lavaggio a 50 gradi, il lavaggio intensivo a 65 gradi, l'autolavaggio a 55 gradi intensivo e quello rapido a 50 abbiamo il rapido da mezz'ora, lavaggio cristalli 45 gradi e soltanto l'ammollo dall'altro lato il lavaggio 3D con quei due erogatori nuovi il mezzo carico, l'asciugatura plus adatta ad asciugare tutte e non lasciare appunto gocce d'acqua all'interno delle stoviglie il lavaggio notturno il più silenzioso, l'antibatterico, l'autopulizia interna dei cestelli e la partenza posticipata Hotpoint Tyson, un nome, una garanzia nel mondo dei grandi elettrodomestici e tu cosa ne pensi? Commenta il video e condividilo per chi ne ha bisogno ci vediamo nei prossimi video, ciao raga!